Io non ce la faccio, io non riesco a resistere tutte le partite così, mi prende un colpo, mi prende un colpo perché veramente io a fine primo tempo stavo sclerando, stavo sclerando di brutto a fine primo tempo, non ce la facevo più, volevo che la partita finisse, non ce la facevo più, una partita brutta era, era una partita bruttissima, non ce la facevo più, ero stanco, ero stanco, perché vedevo per l'ennesima volta una squadra avversaria chiusa in undici sulla tre quarti campo loro, non ce la facevo più, mi sembrava di rivedere le partite precedenti con i relativi pareggi, non ce la facevo più, è noi che non riuscivamo a fare niente, non riuscivamo a fare niente, non ce la facevo più. Benvenuti a tutti amici interisti e non, perché anche non interisti sono i benvenuti ovviamente, che dire, tre punti importantissimi, importantissimi, importanti, perché ritorniamo a meno tre dalla Juve, ma dobbiamo aspettare mercoledì mi pare, o martedì o mercoledì mi pare mercoledì il 5, la Lazio recupererà la sua partita col Verona, per momentaneamente siamo sopra, però se la Lazio dovesse vincere ci supererà. Però, parlando della partita ragazzi, io come ho detto prima, primo tempo brutto, primo tempo brutto, non capisco perché Barella si debba sempre far ramonire, ormai ha il cartellino giallo, ai primi minuti della partita, fisso, lì è suo il cartellino, e lì non lo schiodi, è il bello che lo prende sempre all'inizio delle partite, deve far sempre le entrate e poi deve stare attento, perché se tu prendi il cartellino all'inizio della partita, dopo sai che ogni contrasto, soprattutto se ti chiami Barella, attenzione che può puttarti fuori. Un centrocampo, sinceramente nel primo tempo non mi è piaciuto niente, perché la difesa la vedevo poco sicura, e non riusciva a impostare. Un centrocampo che comunque giocavamo col centrocampo a 2, perché Eriksen era più avanzato, e col centrocampo a 2, tra Barella e Vesino, chi cazzo lo fa il gioco, chi fa girare la palla, nessuno, e si vedeva. Quindi un centrocampo molto in difficoltà. In attacco, io sinceramente la coppia Lukaku-Esposito la vedo con poco feeling, un Esposito che oggi non mi è piaciuto, ma non era, secondo me, partita da Esposito oggi, perché è una partita delicata, in trasferta, con una squadra che intanto si stava difendendo e non lasciava spazi. Secondo luogo è una squadra che quando vede l'Inter diventa il Real Madrid, il Barcellona o il Bayern Monaco. E infatti in contropiede rischiavamo molto. Poi, secondo tempo, Esposito si magna un'occasione colossale, perché c'è la parata di Musso che gli arriva a Esposito, lui tira tipo mezzo col tallone che va a sbattere sull'altro piede, il pallone gira più, non si è capito un cazzo, il risultato è stato un tiro di merda ed era un'occasione d'oro, poi ha perso molti palloni ed è preso, ha fatto doppio cambio Conte. Giustamente è uscito Esposito che ha fatto male, ma ripeto, è giovane, dobbiamo lasciarlo crescere, ma queste partite non sono da Esposito, sono da giocatori un po' più esperti. Infatti Sanchez è entrato, ha fatto bene. È entrato Brozovic, rischiandolo, perché comunque l'abbiamo rischiato oggi Brozovic, visto che non stava bene. Per Eriksen, che era comunque stanco, penso io che sia stanco, perché la prima partita di Eriksen comunque dall'altra parte non giocava tanto, forse era stanco, non lo so. Finalmente con Brozovic e con Sanchez la partita cambia. Cambia, perché Brozovic finalmente dietro abbiamo chi cazzo fa il gioco? È davanti un Sanchez che oggi ha fatto una partitona. Oggi ha fatto una partitona Sanchez. Tocchi di prima, inserimenti, dribbling, questo, quell'altro. Lukaku la sblocca, Lukaku la sblocca e fino a quel momento Lukaku non stava facendo bene, non stava per niente facendo bene, però si mette lì. Aspetta che, non mi ricordo, forse era Noiting, non lo so il difensore hiera. Aspetta che apre le gambette, stucca in mezzo alle gambe e Mussola vede in ritardo e non riesce a pararla. Però ragazzi, Sanchez veramente ha fatto una gran bella partita. Nel secondo tempo abbiamo anche trovato più spazi, perché già dall'inizio del secondo tempo abbiamo già trovato più spazi. Eriksen vi riva trovato molto più facilmente in mezzo alle linee, però con Esposito non si riusciva a concretizzare. Poi netto, nettissimo, il rigore. Questo è un rigore netto. Chi ha capito capisce. Un rigore netto su Sanchez, che poi segna poi Lukaku. Avrebbe anche voluto vedere Sanchez battere anche perché ce l'ha il fantacalcio, ma questa è una piccola parentesi. Comunque bene, peccato perché poi Esposito era partita molto bene con una bella botta da fuori aria, per il resto ha fatto male. Sanchez invece ha fatto molto bene. Speriamo che pure al derby Sanchez faccia bene e che torni Brozovic, perché finalmente magari potremmo vedere Barella, Brozovic, Eriksen. Finalmente, se Dio vuole, molto bene, lo ripeto, Ashley Young che avevamo già visto, ma molto bene anche Moses. Quindi forse finalmente abbiamo trovato i due laterali, i due esterni che ci servivano, perché entrambi corrono, hanno lo scatto, hanno lo spunto in velocità, puntano, puntano finalmente. Moses in difesa un po' barcollante, devo dire, però comunque prima partita, appena arrivato, quindi già ha mostrato molto di più di molti altri. Speriamo che migliori ancora e secondo me abbiamo trovato la coppia di esterni buona, finalmente. È una coppia degli esterni che non si vedevano da un pezzo, devo dire. Niente ragazzi, prendiamo questi tre punti, che dire, che dire, che dire, niente, non c'è niente da dire, vediamo la razza cosa fa e prossima settimana il derby. Ah sì, mi pare che Bastoni che è stato ammonito era diffidato, mi pare di sì, non vorrei dire una stronzata, ma mi pare che era diffidato, quindi Bastoni non ci sarà. Andanovic, io ho sentito che potrebbe essere fermo per un mese, quelli, io da quello che so è che ha preso una botta alla mano e ha provato fino all'ultimo a giocarla. Quindi se uno prova fino all'ultimo a giocare, forse non è così grave. Vedremo, vedremo. Comunque Padelli, ogni volta che vedeva la palla a Padelli mi vediamo un colpo, però ha fatto sicuramente nel primo tempo una parata che vale un gol su Okaka, perché se non la prendeva Okaka era da solo, gli altri un po'... Eh, avevo paura ogni volta che vedeva a Padelli, però alla fine ha preso zero gol, ha fatto le soparatine, non è proprio sicuro, però quello l'abbiamo e quello ce lo facciamo andare bene. Noi ragazzi ci vediamo nella prossima partita, è ritornato anche D'Ambroso in campo, aspettiamo il derby, prima la Lazio, poi il derby, ciao a tutti e sempre Forza Inter!